Manca poco alle elezioni amministrative, anche la Confcommercio sta organizzando un incontro, un dibattito, una serie di domande per i candidati a sindaco. Si svolgerà il 26 di maggio e sarà un appuntamento molto importante soprattutto per i commercianti della città dei fiori. Assolutamente sì, domenica 26 maggio alle 10 e mezza presso il centrale. Confcommercio si è impegnata, abbiamo già uno storico che l'abbiamo fatto con le elezioni Ventimiglia ed è stato un incontro molto interessante, quindi si impegna a creare questo incontro con i candidati sindaci nel teatro centrale storico di Sanremo. Abbiamo preso l'impegno con i nostri associati di chiedere a loro quale poteva essere il loro punto di vista, cercare di capire cosa volevano dalla futura amministrazione. Qua non si guardano le bandiere, non si guardano le liste, si guarda l'impegno che il candidato sindaco si prende, i candidati sindaci si prendono personalmente con i loro gruppi di voto e consigliari. Per noi è importante capire e soprattutto porgere le nostre domande verso di loro, cercando di tracciare un po' quella che è la linea per noi di impegno importante che riassume poi quello che è la volontà di un tessuto commerciale che è importante, basilare, sia legato all'amministrazione. Hai parlato di tessuto commerciale e direi che Sanremo vive sì di alberghi, vive di spiagge, però da tanti anni Sanremo vive di ristoranti, bar, insomma un tessuto commerciale davvero importante che ha bisogno di turisti, che ha bisogno di appuntamenti, che ha bisogno di manifestazioni. Assolutamente, Sanremo è già una città internazionale, lo sappiamo, c'è il festival, c'è il casino, ci sono i cari fioriti, c'è il rally, ci sono degli eventi, compreso l'Oyot Club che crea degli eventi e regate importanti a livello internazionale. Noi abbiamo però l'importanza di capire qual è la strategia futura, non possiamo far finta di niente, e vediamo che le città, noi vicine, del nostro territorio, della nostra provincia, stanno andando avanti con impegni e investimenti da parte di privati importanti, abbiamo visto come ultimamente Ventimiglia ha fatto una grande operazione con Flavio Vartore, ma non solo negli investimenti privati, anche negli investimenti degli stessi comuni, noi dobbiamo rimanere al passo, non possiamo sederci sugli allori del passato, Sanremo deve essere Sanremo e sa che può essere la capolista di questo territorio che è importante come la provincia dell'Imperia, quindi è da capire insieme ai nostri amministratori che devono gestire un'azienda, perché un comune di come Sanremo è un'azienda, tutti i comuni, ma Sanremo ha maggior ragione per gli eventi che ha, deve pensare che deve essere amministrata come un'azienda e come in ogni azienda bisogna fare squadra, collaborare con le associazioni categoria, con gli stessi imprenditori piccoli e grandi che siano la città, per far sì che comunque ci sia un continuo crescere e non sedersi sugli allori del passato come dicevamo prima. Questo è importante, è importante anche che l'amministrazione abbia una visione a 360 gradi, non si dimentichi delle vie che fanno parte o delle frazioni che fanno parte comunque della stessa città, perché quelli sono polmoni importanti per il nostro territorio. Voi negli ultimi anni avete chiesto soprattutto una cosa, programmazione degli eventi, penso che questo possa essere uno degli argomenti del 26 maggio. Assolutamente, programmazione degli eventi, ma io penso una cosa, noi abbiamo, ci saranno tanti argomenti da affrontare, le domande saranno impegnative e sicuramente i candidati sindici dovranno prendersi l'impegno sulle richieste che fa il tessuto commerciale di una città come Sanremo. Io penso che però gli impegni e la base di una buona amministrazione debba continuare quello che ha fatto in questi anni, ma soprattutto deve capire che per una città come Sanremo l'importante è creare quelle basi che sono pulizia, sicurezza, viabilità e soprattutto lavorare su una città come Sanremo per il turismo che ha, anche su una programmazione. Programmazione che dobbiamo accelerare e averla prima, so che sarà difficile, ci dobbiamo riuscire, noi ci mettiamo tutti l'impegno, noi siamo vicino a colui che sarà il sindaco, ma ci deve essere una programmazione sicuramente prima e non a cavallo dell'evento stesso. L'appuntamento del 26 maggio è aperto a tutti, ma con commercio lancia l'appello soprattutto ai commercianti per essere presenti quella mattina. Certo, certo, è un evento che sarà molto tecnico, molto indirizzato verso l'aspetto commerciale, sicuramente sarà di interesse pubblico perché comunque è una ricaduta su tutta la città e ci vediamo il 26 maggio. Grazie. 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 Grazie.